Raccontare storie di innovazione e di entusiasmo. Ascoltarle dalle voci dei protagonisti. Questo è quello che voglio fare. Io sono Saverio Cuoghi, questa è Innovazione 2020. Inauguriamo le nostre conversazioni sull'innovazione con un ospite d'eccezione, il professor Luciano Floridi, professore di filosofia ed etica dell'informazione a Oxford, nonché direttore del Data Ethic Lab all'Alan Turing Institute. Benvenuto a Innovazione 2020, professore. Grazie a voi per l'invito. Partiamo da una sua solicitazione che in qualche maniera riprendo. In un suo seminario lei diceva che negli ultimi vent'anni abbiamo prodotto più dati che in tutta la vita precedente dell'uomo ci sono moltissime persone connesse, ma ci sono ancora più cose connesse tra di loro. Spesso questo tema viene pensato o trattato come una rischiosissima minaccia o con una meravigliosa opportunità che abbiamo di fronte. Lei cosa ne pensa? Penso che, come spesso accade, un po' di verità sia nel solito mezzo, un po' da chiarificare, cioè che sia gli eccessivi ottimismi sia gli eccessivi pessimismi abbiano qualche ragione d'essere, ma che in realtà ci siano problemi seri tra le due parti, diciamo così. Questi problemi sono in parte generati dalla quantità, non dalla qualità, ma dalla quantità dei dati che abbiamo e stiamo accumulando. È vero che la maggior parte dei dati che abbiamo oggi sono stati creati da questa generazione, dalla generazione vivente. Negli ultimi 10-20 anni abbiamo accumulato molti più dati di quanto abbia mai fatto l'umanità dal primo giorno in cui siamo usciti dalle caverne a oggi. Questo non vuol dire ovviamente qualità, stiamo parlando di grandi masse di dati che sono anche i dati che tutti gli oggetti che ci circondano generano. Si immagina la propria automobile, ma anche semplicemente un aereo che vola o il traffico stradale o quello che può produrre oggi l'agricoltura che è completamente automatizzata e così via. Qualsiasi cosa si muove e faccia qualcosa oggi è una fonte di dati. In molti casi noi questi dati li raccogliamo e li usiamo, ma in ancora più casi questi dati non sono ancora raccolti e non sono ancora usati. Ora, le questioni che si pongono sono diverse e alcune un po' pressanti. Dovremmo raccoglierne di più? Stiamo raccogliendo i dati giusti? E che cosa facciamo con tutte queste masse di dati? Ora, raccogliere e conservare i dati è un costo. Quando le persone a volte dicono, ah che bello, ma è l'economia dove la risorsa primaria è gratuita. Non è vero. Nello stesso modo in cui costa ad esempio aggiornare il proprio hard disk a casa o il proprio telefonino, oppure modificare l'impianto di un certo software per far sì che i dati siano accessibili o puliti o sempre aggiornati. E questi sono costi molto alti. Li sostiene normalmente ad esempio un'azienda o un'agenzia governativa o una piccola industria, ma sono costi seri. Ecco, di fronte a questi costi, quali dati raccogliere, come raccoglierli, come utilizzarli, è la domanda che diventa immediatamente pressante. Perché quanto mi costa e ne vale la pena? Ora, purtroppo il pessimismo qui verte non tanto sull'utilizzo e il valore dei dati, quanto sul cattivo uso, a volte ad esempio criminale, oppure di controllo o di influenza dei comportamenti umani. E questo è qualcosa che noi dovremmo tenere sotto altissimo controllo perché è un pericolo serio. D'altra parte però se noi pensiamo all'industria, al mondo dell'intrattenimento, ma anche al mondo della salute, al mondo del lavoro, tutto quello che ci circonda oggi gira e funziona grazie a dati sempre migliori, più accurati, più puliti, utilizzati meglio. Ecco, allora io vedrei, per concludere, una sorta di ragionevole, moderato ottimismo nelle opportunità e forse una certa frustrazione nella nostra capacità di cogliere queste opportunità. C'è molto da fare, si potrebbe fare moltissimo, purtroppo non stiamo facendo abbastanza. Un'ultima parola forse sul costo dei dati. È vero che la maggior parte dei dati che abbiamo li abbiamo raccolti e creati noi, è anche vero che non sappiamo dove metterli. E questo tsunami di dati che ci sta coinvolgendo e un po' a volte travolgendo in alcuni casi, non solo è nato insieme, ma morirà anche insieme. I dati vivono da qualche parte, le banche dati hanno una loro vita di crescita, ma anche di decadimento. Quando andranno tra virgolette in pensione tutti insieme noi avremo un problema serio. Ecco, pensare quindi anche al futuro della gestione delle nostre grandi banche dati è fondamentale. Un esempio pratico potrebbe essere un supermercato che decide di gettare via i dati troppo antichi, per poi scoprire cinque anni dopo che sarebbero stati utilissimi. Sono costi che vanno considerati molto attentamente, ma credo che ci siano le grandi opportunità qui da sfruttare in maniera molto più intelligente. Lei parla di quarta rivoluzione, quella del digitale, che non ci vede più protagonisti, non siamo più festeggiati e il ruolo che ci disegna un po' è quello di provare a organizzare la festa. Cosa intende? Un po' già quello che ci diceva va in quella direzione, ma come possiamo organizzare la festa e riappropriarci un po' di quello che magari ci sfugge? Ecco, qui forse ci vuole veramente una prospettiva, se posso permettermi una parola forte, filosofica, cioè di tempi molto molto lunghi. Noi siamo un po' evoluti anche scappando dai leoni e aggredendo le gazzelle. Insomma, in una giungla in cui bisognava anzitutto prendersi cura di noi stessi. Chi non lo faceva, chi non lo ha fatto, non sta qui a raccontarlo. L'evoluzione è anche un motore brutale di sopravvivenza. Detto questo, abbiamo passato quello stadio molto tempo fa e allora passare da un'etica o da un approccio alla vita che è di personale salvezza e di interesse personale, quindi un po' diciamo gretto, anche di sopravvivenza, di egoistico o, se vuole, diciamo così in termini più generali, antropocentrico, cioè in cui l'umanità si fa un po' gli affari suoi. Come diceva lei giustamente, pensa che la festa su questo pianeta sia la sua e che lei, l'umanità stessa, sia l'invitata e la festeggiata. Ecco, questo aveva molto senso quando il mondo ci aggrediva, quando eravamo noi in difesa e bisognava tirare fuori gli artigli. Oggi, e già da un po' di tempo, si parla e si dovrebbe parlare sempre di più di una etica non dell'interesse, ma della cura. Ecco, questo vuol dire che, tornando alla metafora della festa, capire che si è cresciuti, che l'umanità ne ha viste un po' di tutte, ma che soprattutto è un po' più tranquilla rispetto alla sua sopravvivenza in un mondo ostile, aggressivo, minaccioso, di cui in realtà ormai deve prendersi cura. Il mondo è molto più fragile di noi, è diventato molto più delicato di quanto non lo siamo noi, siamo passati noi dalla parte di chi aggredisce cose, lo stiamo distruggendo, e in questo caso passare a un'etica della cura, cioè di chi si occupa dell'altro, dove l'altro è tutto quello che ci circonda, non soltanto l'altro essere umano, non soltanto l'altro la società, le cose che abbiamo costruito, ma anche il mondo della natura, quindi se vuole dal Colosseo fino alla foresta. Ecco, questo secondo me sarebbe un grande passo di maturità, segnerebbe veramente un cambio di marcia nel mondo contemporaneo e nel modo in cui noi concepiamo l'etica. l'etica in gran parte la impariamo, l'abbiamo sempre studiata, l'abbiamo impostata come un'etica dell'io, cioè che cosa io devo fare, che cosa io devo essere, perché io devo farlo, e in realtà dovremmo un po' pensare all'etica, se mi permette, del tu, che cosa ti serve, perché ti devo fare o non ti devo fare questa cosa che può servirti, quali indicazioni mi stai dando tu l'altro per far sì che io faccia la cosa giusta. Ecco, questo, devo dire la verità, non è poi una cosa tanto nuova, chiunque si sia trovato in una posizione di servizio nei confronti degli altri, dal genitore all'inserviente del negozio, dal medico all'insegnante, sarebbe bello poter dire dal politico, nel caso in cui il politico faccia un buon lavoro, all'avvocato. Ecco, in tutti questi contesti, ogni professione, ogni attività umana ha un momento di servizio nei confronti dell'altro, di mettere l'altro o l'altra, no, uomo, donna o cosa al centro della propria attenzione. Capire che la festa non è più la nostra e che in realtà noi siamo quelli che organizzano la festa vuol dire essere più maturi, ma anche prendere un po' di soddisfazione che è poi quella dei genitori che organizzano la festa per i ragazzi. Noi Innovazione 2020 mettiamo l'ascolto in qualche maniera sia reale, materiale, quasi quello radiofonico riproposto in altra veste, al centro della nostra azione, quindi siamo molto confortati dalle sue parole, professore, questo insomma ci dice che andiamo sulla strada giusta. Un'altra serie di cose che succedono in realtà riguarda anche la regolazione di quello che il digitale ci sta proponendo. Recentemente è stata proposta a livello europeo una carta etica che appunto regolamenta l'intelligenza artificiale nel campo della giustizia. Un campo, almeno per quanto conosco io, non sembra particolarmente abituato a innovare. Che passaggio è questo? Sì hai ragione, questo è un passaggio importantissimo perché ci sono alcuni settori della nostra vita, settori industriali, amministrativi, sociali, che sono più esposti di altri alle trasformazioni e all'innovazione che il digitale in generale e l'intelligenza artificiale in particolare stanno apportando. Ora quello della giustizia è uno di questi. Gli altri che si possono facilmente elencare, ma li conosciamo bene tutti, sono notizie da quotidiano, sono quelli della difesa e quindi degli aspetti più bellici e quelli della sanità, ma pensiamo pure anche al mondo dell'educazione o al mondo dell'intrattenimento e così via. Ecco nel settore della giustizia l'intervento, l'arrivo del digitale è stato particolarmente incisivo perché ha generato almeno due trasformazioni molto significative e non viste precedentemente. Una è la capacità di lavorare su grandi masse di dati. Noi siamo abituati a sapere e ormai riconoscere la legge come una sorta di foresta in cui soltanto i grandi esperti sanno orientarsi. Per questo ci rivolgiamo all'avvocato, all'esperto, al commercialista, a chi sa e conosce bene le regole, gli aggiornamenti, i cavilli, le cose ultime che sono uscite, le cose locali, le cose nazionali, internazionali, europee. Ecco, avere qui un potente agente come è l'intelligenza artificiale che all'improvviso ci dà una mano nel lavorare e orientarci in questa foresta di informazioni ha sicuramente portato enormi trasformazioni e vedremo ancora più trasformazioni in futuro. Ora qui ci sono anche alcuni lavori che vengono messi un po' in dubbio, come appunto quello, chiamiamolo, dell'assistente, del praticante, del paralegal, come si direbbe in inglese, che fino all'altro ieri faceva un po' questo lavoro e dava una mano nell'orientarsi. Trovo però che l'orientamento vada in una direzione buona. Al contempo ci troviamo anche di fronte a, questa è la seconda trasformazione profonda, a dover prendere sempre più decisioni, sempre più velocemente e in sempre più casi. E quando si tratta di prendere tante decisioni tanto velocemente e tanto spesso, la tentazione di affitarsi a uno strumento automatico è enorme. Ora, noi l'abbiamo visto, ad esempio, nei confronti della difesa, quando si tratta di lavorare a velocità enormi, con tempi di reazione che sono minimi e con grandi poi rischi, caso di errore, beh, quel missile forse un po' di intelligenza artificiale ha bisogno di averla on board, come si direbbe. Questo sta un po' avvenendo anche nel settore legale. Quando abbiamo migliaia e migliaia di casi che ancora non sono stati risolti, oppure decisioni che sono di grande complessità e che hanno bisogno di un maggiore approccio obiettivo e così via, la tentazione, e parlo di tentazione, di affidarsi interamente a uno strumento meccanico, automatico è fortissima. Attenzione perché è una tentazione anche pericolosa. Anche qui, come sempre, c'è un po' di bene e un po' di male. Ci sono i pro e i contra. Quello che noi possiamo guadagnare in efficienza ed efficacia, quindi rapidità e anche obiettività, a volte, possiamo facilmente perderlo in termini di ingiustizia, opacità delle decisioni, de-responsabilizzazione di chi le prende. Insomma, finiremo per affidarci mani e piedi a strumenti che poi magari non sappiamo neanche noi stessi come controllare e che non conosciamo bene, che soltanto l'ingegnere di turno potrebbe spiegarci, ma non noi stessi. Non è una buona idea. Allora, utilizzare questi strumenti per fare meglio quello che già stiamo facendo? Certamente. Utilizzarli per fare meno e fare peggio quello che dovremmo fare noi? Sicuramente no. Un'ultima battuta con una domanda amplissima. Noi parliamo di innovazione. La filosofia e l'etica cosa ci insegnano rispetto alla nostra capacità di innovare? Come la possiamo in qualche maniera supportare? Ecco, dipende un po' da quello che uno ha in mente come filosofia. A volte il liceo o la scuola superiore non è il miglior araldo o presentatore della filosofia. In realtà la filosofia, forse anche a volte scherzando, è uno dei settori più innovativi e più conservatori che si possa immaginare. Innovativo perché le cose che hanno detto i filosofi, anche strampalate, non si possono neanche raccontare, in tempi anche non sospetti. C'è stata gente che ha pensato che la Terra fosse tonda e che girasse intorno al Sole molto prima e così via, oppure che il mondo fosse fatto di atomi, in tempi veramente ancora prima di Socrate. Ora, questo vuol dire che è lì dove la nostra capacità di disegno concettuale, perché è il modo in cui io amo descrivere la filosofia, riesce a cogliere a volte anche cose insospettabili e anticipare il pensiero molto prima di quanto adesso non si realizzi, magari in qualche innovazione tecnologica o scientifica. Quindi la filosofia come grande bacino di innovazione e disegno concettuale, certamente. Purtroppo la filosofia è anche però quella cosa che, avendo standard di valutazione un po' deboli, chiamiamo così, o meglio che ognuno si alza la mattina e dice la sua, è più facile avere un irrigidimento dei modelli di valutazione. È come se, non avendo dei parametri molto rigidi, allora quel poco che comincia a essere disponibile comincia a diventare l'ortodossia. Allora è uno strano misto tra grande innovazione e trasformazione, il pensare a volte cose veramente strane molto prima di quanto non siano avvenute, e al contempo una forte ortodossia che ingessa un po' quell'innovazione e non gli fa avere l'impatto giusto. Ora, la filosofia migliore, quella che studiamo, diciamo, dei classici che ancora studiamo, è quella dove l'innovazione non è stata uccisa dall'ortodossia. Purtroppo quella che noi viviamo un po' tutti i giorni, quella che si vive, diciamo così, nel tran tran del filosofeggiare quotidiano, quello chiamiamo un po' scolastico accademico, è lì dove l'ortodossia prevale sull'innovazione. Ma devo dire che la filosofia da sempre, nel modo migliore quando è grande filosofia, è forse una delle forze più forti che possano allearsi con quello che l'ha chiamato l'ascolto e quello che abbiamo appena definito l'innovazione. Benissimo, grazie mille professore, la ringraziamo veramente. Grazie a voi. La aspettiamo tra un po' di tempo per un'altra puntata. Puoi dire. Grazie ancora. Innovazione 2020, la voce dei protagonisti, su iTunes, Spotify e Spreaker.